Buonasera, ben ritrovati a Effetto Friuli Giovani, la seconda puntata. Benvenuti a tutti, oggi parliamo di giovani e diversità, questo è il tema scelto per avviarci lungo questo ciclo di puntate che ci porterà appunto a parlare di diverse tematiche di attualità scelte dai ragazzi. L'altra volta abbiamo introdotto un po' la trasmissione, è giunta la sua tredicesima edizione e abbiamo parlato del ruolo istituzionale della consulta, del perché di Effetto Giovani e di tutta una serie di progetti. Effetto Giovani appunto è anche la tribuna, l'arena dove questi ragazzi si possono confrontare con i nostri ospiti e appunto trattare argomenti di attualità. Insieme agli insegnanti hanno concordato questa tematica e quindi oggi si parte, si parla di diversità. Ospiti in studio, cari ragazzi, per voi, niente po' di meno che, e vado per ordine dalla mia destra, allora abbiamo il professor Luigi De Carli del CEFAP che era stato a trovarci anche l'anno scorso, quindi ben ritrovato. Poi Anna Degano, presidente dell'Aspic, Beredice Pegoraro della Comunità 9 e Nicola Bizan della Cooperativa Itaca. Quindi benvenuti e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come dicevo, si parla di diversità. Che cos'è la diversità e soprattutto come viene percepita dai ragazzi. Preparando la puntata ho trovato un sondaggio che è stato realizzato dal Centro Studi Minori e Media rivolto ai giovani. Hanno partecipato circa 1200 studenti di 19 scuole, medie e superiori di 13 città italiane. Non c'è nessuna della nostra regione, però i dati sono piuttosto interessanti. Si parla di quali sono le diversità, che cosa pensano i giovani della diversità e quali sono i riferimenti. Quindi abbiamo riferimento alla condizione sociale, alla disabilità, all'etnia, al genere, alle opinioni politiche, all'orientamento sessuale, religioni. Insomma, ce n'è diversi. Ogni occasione sembra essere buona per isolarsi e un po' avere paura dell'altro. E questi ragazzi, il dato insomma su cui si concentrava il sondaggio era relativo anche a come o dove nascono questi, chiamiamoli se vogliamo, pregiudizi. Quindi la maggior parte dei ragazzi diceva di riflettere, di aver maturato una riflessione personale, altri di trarre delle conclusioni o comunque di sentirsi influenzati da quanto leggono sui media, giornali, social, e altri invece dalle influenze insomma ricevute in famiglia. E tante sono chiaramente le opinioni relative alla diversità. Io questa sera sono molto contenta degli ospiti perché volevo introdurre l'argomento partendo un po' da lontano. perché se adesso la diversità è vissuta forse più direttamente da noi, indipendentemente dall'età, fino a qualche decennio fa, una quarantina d'anni fa, esisteva una struttura operativa, pienamente operativa come quella manicomiale, dove proprio il diverso per eccellenza veniva, cioè la diversità per eccellenza veniva rinchiusa, si apriva un portone che veniva definitivamente chiuso e quindi chi era omosessuale, ragazze madri o chi naturalmente aveva dei problemi di tipo mentale, veniva chiuso lì. È quindi una struttura, insomma una realtà di forte impatto che poi insomma con la riforma Basaglia negli anni si è via via sgretolata, siamo arrivati ad un'altra concezione e anche rapporto con il diverso che però non è esente da problemi. Volevo chiedere proprio a Nicola Bisan che si occupa, gravita intorno all'area del distretto sanitario e della collaborata col distretto sanitario e gravita intorno all'area dell'ex manicomio proprio di Santo Svaldo non tanto com'era la percezione ovviamente di chi veniva rinchiuso quanto com'è cambiata negli anni rispetto all'epoca la percezione di chi sta fuori dal manicomio nei confronti del diverso, tra virgolette. È una domanda piuttosto difficile, non per un operatore del settore. E come hai citato bene tu prima, introducendo la questione, insomma il manicomio era un po' quel tappeto dove poter nascondere tutte le cose che davano un po' fastidio e quindi da questo punto di vista qua era un luogo molto ben, come dire, deputato a nascondere queste cose qua queste persone soprattutto. E quindi da questo punto di vista era, per come era nato, dipendeva direttamente dal ministero degli interni e quindi, come dire, bastava che qualcuno potesse raccontare alla polizia o a qualcun altro che quella persona lì quando beveva dava fastidio o quell'altra donna lì era di facili costumi e quindi nel paese piccolo non ci poteva stare che, come dire, immediatamente poteva essere trasportata all'interno di questa istituzione. Ovviamente lì ci passava un po' di tempo in osservazione e se questa poi al fine sembrava che non reagisse tanto bene alle cure o presunti tali finiva che ci rimaneva. e quindi era un po' un problema poi da questo punto di vista. Però appunto proprio il ruolo istituzionale della struttura faceva sì che la società si sentisse più sicura o comunque preservata dal confronto semplicemente quotidiano con la diversità declinata con un'accezione forse diversa rispetto a oggi, molto negativa, esclusivamente negativa. Certo, era molto, come dici tu, molto negativa. Poi alla fine se si andavano a riscoprire un po' le storie di queste persone si poteva andare a capire che poi questo non, come dire, tutto questo fastidio aveva forse anche un motivo e poteva essere anche affrontato in qualche maniera. Allora soltanto poi successivamente, aprendo le porte del manicomio attraverso la legge Basaglia facendo entrare anche i cittadini all'interno di questa istituzione per, come dire, raccontare un po' attraverso altre forme come la musica, il teatro, l'arte, eccetera, eccetera si è potuto incontrare queste persone e si è potuto poi, come dire, aiutarle. Ma aiutare anche queste persone a tornare nei luoghi d'origine spiegando poi ai cittadini che forse, come dire, non stavano così male come si pensava inizialmente quindi c'è iniziato questo processo di, come dire, conoscenza reciproca e quindi è stato fondamentale per gli operatori sanitari andare sul territorio a incontrare la popolazione e allo stesso tempo fare in modo che la popolazione piano piano entrasse all'interno dell'istituzione manicomiale. Un percorso che sappiamo ancora, diciamo, ha una lunga strada davanti a sé per quanto riguarda, diciamo, la malattia mentale si dice che si deve eliminare e superare lo stigma che però è un concetto che si può applicare a qualsiasi discriminazione e rapporto con la diversità perché, appunto, come abbiamo detto, si parla di posizioni che poi possono raggiungere livelli estremi come il razzismo, l'omofobia, il bullismo, fenomeni che anche nelle scuole, insomma, sono più che mai presenti. Tra i ragazzi, magari, non so, ci sono dei ragazzi anche, la faccio facile, stranieri, chi di voi si è mai sentito discriminato o vittima di un atteggiamento discriminatorio o sente involontariamente anche magari di aver discriminato? Andiamo anche per alzata di mano, che così non vi faccio parlare subito. Nessuno. Nessuno di voi ha mai... Allora, cedo subito la parola al professor De Carli perché lavora nell'ambito della scuola, al CEFAP. E deve sconfermare, forse. Come? E deve sconfermare questo silenzio. Non voglio che sconfermi per forza, però, insomma, beh, magari loro sono dei fortunati. Dei fortunati, ma fortunati siamo noi che lavoriamo con i ragazzi. In realtà, la verità è proprio questa, le classi oggi sono dei laboratori sociali in cui la diversità è molto presente e a volte anche si fa sentire attraverso delle schegge che possono andare anche verso l'offesa, la discriminazione, il bullismo e talvolta, insomma, con le conseguenze che può comportare nei ragazzi. e viviamo tutti i giorni le difficoltà della convivenza anche nelle scuole. Ed è per questo che è importante che gli insegnanti, gli educatori siano preparati a convivere con questa realtà, con questa dimensione. E significa, adesso la faccio breve, ma è una sfida quotidiana, dare spazio tanto all'ascolto reciproco, dare spazio al dialogo, quindi a volte significa anche sottrarre del tempo da quelli che sono i contenuti della scuola, gli obiettivi, sottrarre un po' del tempo dalle materie. Dall'aspetto, diciamo, prettamente didattico. Però, insomma, voglio dire, è pedagogico anche questa attività all'ascolto. E' pedagogico, perché proprio, volendo concludere e dire questo, se non si crea un ambiente sano, in cui si vivono relazioni sane, non ci può essere neanche apprendimento. Cioè, immaginiamo ragazzi, no? Io guardo i miei ragazzi, perché mi viene a sorridere a vederli. Se in una classe c'è un conflitto, un problema, una litigata, o peggio anche, situazioni, come si sta? Non è che sia bello. No, non hai il microfono, però, aspetta che glielo passiamo, per favore. Grazie, gentilissimi. Eccoci. Beh, non è che sia bello, perché, boh, si lavora male, e, boh, dopo c'è sempre tensione in classe, si litiga anche per niente. Boh. Beh, dobbiamo tener conto che siete una piccola comunità, no? E' passata anche, siamo tutti noi, nell'ambito lavorativo, nella scuola, nella classe, una piccola comunità. Che io dico sempre, conviviamo forzatamente, non ci si è scelti, per cui, insomma, è normale anche che ci siano dei conflitti, delle cose. Però io penso, anche, semplicemente, alla divisione di genere, tra maschi e femmine, sicuramente, in qualche modo, è sentita, o è vissuta. Secondo te? Beh, nella nostra classe, no. Siete solo maschi? No, ci sono solo due ragazze, ma... Ah, ok. Non ci sono ste divisioni, perché, boh, a ricreazione c'è chi va di qua, di là, però, dopo dell'ultima volta, siamo uniti, almeno, credo. Almeno, credo. Dar, ma tu, invece? Evo, approfitto di quelli più spigliati. La mia classe è tutta femminile, al contrario. Ah, ok. Però, cioè, chiaro che non tutti vanno per forza d'accordo. Secondo me, ognuno di noi è diverso, però, l'importante è trovare un punto in comune per tutti. Cioè, che comunque c'è qualcosa che ti accomuna. Anche il fatto di stare nella stessa classe, fare lo stesso corso, in un modo o nell'altro ti accomuna. Ma, insomma, considerando che se va bene, sono cinque anni a fianco l'uno con l'altro, ovviamente, sì. Questo è un buon punto di partenza per la prossima parte della trasmissione. Io manderei già la pubblicità, così ci troviamo subito dopo e proseguiamo il nostro discorso. Allora, ci eravamo lasciati con Dharma, che ha detto alla fine, insomma, di un percorso scolastico, gioco a forza con i nostri compagni, qualcosa, anche se siamo completamente diversi, non ci troviamo, non abbiamo punti in comune, però una cosa in comune c'è, facciamo un percorso, che è quello scolastico, condividiamo delle cose, gli insegnanti e quant'altro. Io rilancio alla dottoressa Degano, che era rimasta molto colpita da questo intervento. Sì, complimenti Dharma. Sono rimasta colpita da quello che hai detto alla fine, cioè rispetto alla soluzione. L'importante è porre attenzione su quello che abbiamo in comune. Grandissima questa riflessione, perché ciò che abbiamo di diverso va ad integrare, va, incuriosisce, ciò che abbiamo di diverso alle volte spaventa, a proposito di paure, alle volte spaventa. E la paura è un tema importante, è un'emozione. E le emozioni hanno una funzione legata alla sopravvivenza, sto pensando proprio antropologicamente parlando. Ecco, ci spieghi perché in generale si ha tanta paura del diverso, quando non lo si conosce, mi verrebbe da dire. Perché poi... Stavo pensando che quando noi facciamo le domande, abbiamo anche già le risposte all'interno. E stavo pensando alla tua domanda, che è già la sua risposta. Infatti, la paura nasce proprio dalla mancata conoscenza. E ciò che noi non conosciamo è per noi altro da noi. E c'è una parte di noi che ha bisogno di difendersi, perché ciò che è altro da noi può essere anche minacciante, può essere anche negativo per noi. Dobbiamo considerare questa parte, che è una parte legata alla dimensione proprio funzionale, di sopravvivenza, di difesa, di protezione, il tema del confine. Quindi è sano che noi proviamo paura. Il problema qual è? Il problema insorge quando noi stiamo sempre in quella parte, stiamo prevalentemente in quella parte. Quando quella parte blocca l'altra parte, che è la parte invece dell'esplorazione, che è l'altra funzione importante. L'esplorazione che ci permette di andare verso l'altro, l'altro che rappresenta la grande opportunità, la grande ricchezza, altro da noi, permette di completare noi. Il problema è questo, quindi non la paura in sé. La paura in sé è come una delle tante emozioni che abbiamo, gioia, tristezza, sono elementi vitali, le emozioni sono espressioni vitali. Quello che dicevi tu è importante perché? Perché gli elementi che ci accomunano sono gli elementi che ci permettono di creare comunità, di stare insieme, quindi di fare gruppo e di fare forza. È l'elemento che ci unisce, che ci permette di riconoscere e quindi di conoscerci. Mi sono spiegata, spero. Mentre rimanere sul diverso, ripeto, è una ricchezza, ma le volte anche divide. La parte che abbiamo in comune è quella che ci permette di costruire, di fare progetti, di allearci, di sviluppare fiducia. Ma per questo tempo è una parte che ci divide, perché se tutte le persone che io conosco fossero uguali a me, non avrebbe senso conoscersi, nel senso che la scoperta dell'altro è data proprio dal fatto che ci sono punti dell'altro che non conosci. Perché come è importante avere il punto in comune, è importante anche avere qualcosa di differente. Fantastica questa cosa, anche perché mi permette di introdurre un altro aspetto. Conoscere l'altro, nella conoscenza dell'altro, la verità è che io conosco parti di me. Attraverso l'altro io mi conosco, attraverso l'altro io esploro il mondo, scopro delle cose nuove di me, cose che mi piacciono e anche cose che non mi piacciono. E l'altro mi permette di andare oltre, mi permette, come dicevo prima, di integrare. Quindi scopro l'altro, quindi cose nuove dell'altro, del mondo. Con l'altro posso esplorare il mondo, posso arricchirmi, posso fare esperienze nuove. Con l'altro arrivo, infatti, il noi. Il noi è quella magica dimensione, che è la terza dimensione, che ci permette di fare quello che da soli non riusciremo mai a fare. Allo stesso tempo l'altro rappresenta molto spesso delle parti di noi, quindi delle dimensioni nostre, che magari non ci piacciono. Quindi alle volte, qui entro nel tema del pregiudizio, per certi aspetti della diversità. Questo può essere anche un blocco a volte, l'idea di indagare dentro di sé e trovare magari delle cose che non ci piacciono. Quindi nella diversità dell'altro, spesso noi, noi tecnici, chiamiamo così, proiettiamo, cioè buttiamo là, delle parti che non ci piacciono di noi. Quindi l'altro rappresenta il grande processo dell'accettazione, che mi permette di, in qualche modo, avvicinarmi a quella che è l'accettazione del tutto di me. Attraverso l'altro io riesco, piano piano, attraverso la conoscenza, ad accettare la mia umanità. Quindi l'altro è una grande occasione, una grande occasione proprio per crescere, perché solo se io entro nell'accettazione di me, riesco anche ad accettare poi l'altro. Quindi a contemplare nella mia vita sia i successi, sia le cose belle, le cose che mi piacciono, ma anche l'umanità, i limiti, che mi rendono però più umano, mi rendono più vivibile. Perché la perfezione è veramente una dimensione irraggiungibile e anche una dimensione molto limitante. che non ci permette proprio di scaldarci il cuore, io dico. Quindi entrare nella parte umana, nella parte, come dire, vabbè non sono perfetto, ma come dire, vabbè sono umano, vabbè sono vero, nella parte vera. Certo, alla loro età, diciamo, questo è difficile perché siamo, siete all'inizio di un lunghissimo percorso, no, di confronto, di conoscenza. Si inizia la loro età, Marta. Anche prima forse, perché insomma, l'incontro, proprio i bambini dalla prima infanzia, l'incontro con l'altro è molto osteggiato, non sono socievoli i bambini tra di loro, piccolissimi. E poi man mano, no, che si cresce. Ascoltando la dottoressa, mi fa venire in mente un discorso che si aggancia. Parlando delle emozioni, no, come specchio di quello che noi siamo, se stiamo bene o stiamo male. Quando un ragazzo è in conflitto con un altro, o lo percepisce così diverso da tenerlo distante, la risonanza emotiva che proviamo dentro, che il ragazzo prova, non sta bene. Vero ragazzi? Quando invece i ragazzi, so che tanti lo fanno, hanno magari la fortuna, l'opportunità, di fare per esempio esperienze di volontariato, o comunque semplicemente stare vicino a una persona in difficoltà, a un diverso, tra virgolette, quali sono le risonanze emotive che sentiamo dentro? Allora, proprio a questo proposito, ci sono delle ragazze, che parlavamo prima, diciamo, dietro alle quinte, che stanno facendo un'esperienza di alternanza scuola-lavoro con... Non faccio parlare sempre d'arma, passo la parola alla tua vicina. Mi ripeti il nome? Allora, io sono Siria, sono del Cecconi. Appunto, il mio istituto quest'anno ci ha proposto l'esperienza stagistica con le persone diversamente abili. e appunto tutte quante le quarte, quest'anno, dei sociosanitari, sono state mandate in queste strutture apposta per queste tipologie d'utenza e noi, per dire, siamo al quinto giorno di stage. Personalmente io mi sto trovando anche bene, ovviamente, a primo impatto, non sai come relazionarti, però comunque tutti quanti gli operatori con calma ti spiegano come fare, con chi stare, magari con chi stare un po' più attento. Però comunque, inizialmente, ammetto anch'io di aver avuto timore a cominciare questa esperienza, anche perché non mi sentivo preparata, cioè non mi sentivo molto pronta. Però appunto, molti operatori anche ti tranquillizzano. Beh, ognuno voi siete seguiti, eccetera. Certo, andare alla ceca ovviamente un po' può spaventare. Berenice Pegoraro, voi della Comunità Nove, seguite anche dei progetti simili a questi? Comunque avete a che fare direttamente con i ragazzi che vengono introdotti, insomma, nell'ambito dell'ex psichiatrico, sostanzialmente. Sì, allora, due parole solo per chiarire cos'è la Comunità Nove, che è un centro di urno all'interno del Parco di Santo Svaldo, un centro di urno del Dipartimento di Salute Mentale, frequentato da persone che vivono l'esperienza del disagio mentale, quindi sono utenti dei servizi della salute mentale e insieme trascorriamo la giornata, facciamo delle cose e accade che anche noi ospitiamo ragazze e ragazzi in alternanza scuola-lavoro o seguiamo dei percorsi, dei veri e propri progetti che si chiamano SMS, scuola, memoria e salute, per parlare insieme, quindi operatori, utenti dei servizi e studenti e studentesse, di diversità sicuramente, di salute mentale, di pregiudizio, di stigma, di libertà e via dicendo. Quindi abbiamo questa esperienza di incontro, chiamiamolo così, tra generazioni giovani e il nostro mondo, il nostro contesto. Sì, voi operatori e anche naturalmente i vostri... Assolutamente i nostri utenti, che diventano in quelle situazioni di incontro, ripeto, quasi i docenti, ok? Sono le persone che portano nella loro storia, nella loro quotidianità, anche la diversità della loro condizione, per esempio legata al disagio mentale, ma anche ad altre diversità, che peraltro sperimentiamo, condividiamo in tanti, quindi la diversità di genere, per esempio... E quindi la disabilità, insomma, sono realtà con cui ci confrontiamo quotidianamente e i ragazzi... Esattamente, io sono contenta Marta che tu abbia invitato anche me, Nicola, qui, perché secondo me per parlare di diversità e della percezione che i giovani, la società hanno della diversità, usare per quanto riguarda il passato, il manicomio come paradigma o l'ambito così della salute mentale o quello educativo oggi, è uno strumento importante, è uno specchio importante, perché un tempo, appunto, come ha spiegato bene Nicola, le diversità che fossero qualcosa che capitava nella vita, nella storia di una persona, o una scelta di vita consapevole di differenziazione, per esempio nell'orientamento sessuale, nel comportamento sessuale, per esempio, qualunque fosse questa diversità, un tempo, appunto, la comunità, la società non era in grado di accettarla... Diciamo, quello che non era omologato... Quello che non era omologato veniva, appunto, chiuso e nascosto e soprattutto etichettato, ok? Quella era una forma così politica, sociale, per rinchiudere, arginare e allontanare queste diversità. Ora, non è più così per fortuna, anche la grande riforma, per semplificare, diciamo, Basagliana, ha insistito tanto su questo, cioè, chiudiamo i manicomi, perché sono delle istituzioni totali, no? Che molti hanno paragonato ai lager, per esempio, ma non solo, cerchiamo di lavorare affinché la società accolga e riconosca quella diversità come parte di se stessa, no? È quello un po' che dicevamo anche prima. Ed è questo un po' il nostro lavoro, ancora adesso. Quando incontriamo nel Parco di Santo Svaldo i ragazzi della vostra età e parliamo insieme, facciamo delle cose insieme, ci incontriamo, cominciamo a conoscerci, sembra una magia, ma si sgretola, no? Il pregiudizio, anche la paura si intacca. E la paura è vero che è giustificabilissima, è comprensibilissima. Le stesse persone che soffrono, per esempio, di disagio mentale hanno paura dello stesso disagio mentale. Hanno paura di perdere il controllo, di perdere le amicizie, di perdere le affettività, di perdere il lavoro. La paura è un elemento che... Appartiene all'individuo. Appartiene all'individuo. Sia a chi vive sulla propria esperienza, insomma, la diversità, sia a chi la guarda da fuori. Però, ecco, queste esperienze di incontro sono sicuramente momenti, riprendo quello che diceva Anna... C'è uno scambio tra tutti gli attori coinvolti nei progetti. E guarda caso, come anche anticipava Dharma, sempre emergono anche elementi in comune, che ci fanno sentire persone prima di ogni altra cosa, e questo non spaventa più. Così come emergono e però vengono valorizzate anche le diversità, che risiedono nelle storie prevalentemente. Ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, torniamo subito dopo in diretta. Grazie. No, no, aspetta. Eccoci, nuovamente in diretta. Non sono quattro, ragazzi. Allora, tra i ragazzi c'era, diciamo, voglia di intervenire, di farvi qualche domanda. Per cui, chi ha il microfono lo passi a... Ecco, prego, allora tu alzati in piedi perché sei seduto nelle retrovie e ci dici gentilmente anche il tuo nome. Scusi? Il nome. Ok, mi chiamo Alan. Ok, Alan, prendi il microfono come... Ecco, sì, così. Perfetto. Allora, io abito vicino al posto dove... A Santo Svaldo, in zona. Sì, a Santo Svaldo, si ritrovano per fare... Allora, lei ha detto che hanno chiuso i manicomi, giusto? E adesso le persone sono un po' più socievoli, aperte in confronto a questi... Come si... Come si... A chi soffre di disagi mentali. Sì, chi soffre di disagi mentali, no? Però, quando io magari prendo il bus, che è il tre, quello che fa la strada per arrivare a Santo Svaldo, lì del manicomio, c'è sempre questo signore che muove le mani o inizia a gridare dal nulla, che lo lasciano a disparte. Anche se magari le persone sanno che non è un problema che può gravare su altre persone, però comunque lo lasciano a disparte, non perché magari non vogliono parlare con lui, ma perché io penso che in quel momento la persona non abbia proprio bisogno di andare magari a parlare con lui, ma non perché è una brutta persona, ma perché sta andando a casa magari a mangiare perché ha finito di lavorare. Questo, cioè... Però, cioè, è diverso. Se lavoriamo in una comunità, è naturale che uno parla, aiuta il signore. Però al di fuori ci dovrebbe essere... Però facciamo finta, il signore è lì che prende l'autobus e gesticola, probabilmente non sta a chiedere. Però se chiedesse qualcosa, cioè, penso che magari... Certo, certo, risponderebbero subito. Chiaro che... Infatti si lascia anche il posto, signore. Ecco, questo secondo me è un esempio, insomma... No, secondo me no, cioè, secondo me è peggio, perché se uno ha un problema del genere, vuol dire che è stato già isolato, chiuso, no? Quindi se noi come persone cerchiamo magari anche di aiutarlo con un minio, perché non lo salutano neanche, cioè, magari li lasciano al posto, ma non per educazione, secondo me, ma li lasciano al posto per evitare un problema. Io, beh... Non so se ho detto una cosa intelligente, però... Sì, no. Allora, tutte cose... Tutti i vostri interventi sono intelligenti, costruttivi, e ci danno sempre degli spunti, non dovete aver paura a parlare. Guarda, Alan, hai detto una cosa molto bella, molto bella, perché dimostri di aver osservato qualcosa che generalmente le persone o non vedono proprio, o non lo ritengono degno di nota, e invece no, è proprio come dici tu, non siamo più prima degli anni 70, ok? Forse non ci sono appunto situazioni, ce n'è purtroppo ancora in alcuni casi, ma per fortuna rari, di discriminazione, di segnalazione di queste situazioni e via dicendo, però è vero che molto spesso manca quel passetto in più, che non deve essere, come dici tu, pietistico. Per esempio, a me non piace moltissimo neanche l'atteggiamento di chi è mosso proprio da pena nei confronti di queste persone, ok? Perché ha dei limiti, un pochino, anche questo modo di fare con chi esprime una diversità. ma, come dici tu, ci vorrebbe qualcosina di più che dimostri che non c'è né indifferenza, né paura e né ostilità. E questa cosa generalmente si può fare, e io la vedo per fortuna, la vedo soprattutto in voi ragazzi e ragazze, con lo sguardo, cioè come noi guardiamo un'altra persona o ci facciamo guardare, perché a volte le persone lasciano il posto per allontanarsi, perché non vogliono nemmeno essere guardate da queste persone qui, particolari, strane, sofferenti, boh, gran punto di domanda, no? E il concetto dello sguardo, secondo me, del dedicarsi del tempo, anche brevissimo, a guardarsi, solo con gli occhi possiamo dire, guarda che io ci sono, sono qui, ti riconosco, ti vedo, e non mi allontano, semplicemente questo può essere un messaggio, no? Molto forte. Ed è, integro, quanto dici tu, Berenice, e condivido che è un bellissimo intervento quello di Alan, è lo sguardo, hai tutti dato fuori un elemento fantastico, che è lo sguardo, lo sguardo, ragazzi, è, secondo me, il veicolatore più importante del tema del riconoscimento. La mamma guarda il bambino, il bambino si sente visto, quindi rimanda, rimanda proprio a qualcosa di antico nostro, il riconoscimento è anche l'accettazione, è ti contemplo, ci sei per me, ed è anche un veicolo di grande rispetto, ti rispetto, ci sei, ti considero il riconoscimento dal valore alla persona, fa sentire la persona che esiste, allo stesso tempo crea il contatto, e attraverso il contatto voi sapete che il contatto dello sguardo è anche il primo, e stavo pensando all'esercitazione, per un attimo, di cui parlavi che adesso ci sveli, perché alcuni ragazzi hanno, diciamo, in preparazione della puntata, i ragazzi del CEFAP, anche in questo caso, hanno svolto, diciamo, un esercizio, se ci vuole spiegare, poi magari qualcuno che l'ha fatto ci dice che cosa gli è sembrato, insomma. Sì, non so se tra i presenti c'è qualcuno. che ha fatto questo esercizio. L'esercizio, questa mattina, di prima, di prima, Alfa, c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno? No, vabbè, lo raccontiamo comunque, visto che si parlava brevemente di sguardi. Mi parlava proprio una pedagogista che collabora con noi, che ci aiuta anche a muovere un po' i ragionamenti, un po' la mente, un po' il cuore dei nostri ragazzi, proprio per creare quel famoso clima di fiducia e di benessere. Perché lo sguardo è verissimo quello che dicono, ma quando è che possiamo guardare negli occhi serenamente una persona? Quando, in fondo, siamo noi in una posizione buona e sana, no? Allora, l'obiettivo primo è di portare i ragazzi a questo benessere, che gli permette un attimino di alzare lo sguardo e di accorgersi e di accogliere l'altro. Non è così semplice e automatico, è difficile anche per noi grandi, a volte, soprattutto se c'è magari qualche fastidio con qualche amico, qualche collega, eccetera. Allora, la dinamica di questa mattina mi è stata raccontata in realtà in mezzo minuto, per cui la riporto probabilmente in maniera imprecisa. Lo scopo dell'attività, della dinamica di questa classe era di guardare l'altro, di guardarsi negli occhi e di così fare delle osservazioni, degli apprezzamenti, restando però ovviamente in cose che si possono dire, naturalmente, no? E l'insegnante ha detto, ho colto in tanti un imbarazzo, come se guardarsi negli occhi fosse qualcosa che ci mettesse un po' in difficoltà, no? La paura probabilmente ancora, la paura forse non siamo ancora abituati veramente ad incontrare le diversità dell'altro. E quindi c'è tanta strada da fare. Sottolineo quello che ho detto prima, è importante il nostro ruolo di educatori, di psicologi, di insegnanti, aiutare i ragazzi a fare questi piccoli passi. E lo possiamo fare in primis noi attraverso che cosa? L'esempio. Guardiamo i nostri ragazzi negli occhi, Ascoltiamo sinceramente, attivamente, quando loro ci raccontano le loro esperienze O, sei, no, via, ti sembra un momento adesso? Ecco, rifiutiamo o accogliamo i ragazzi? Sono importanti questi passaggi, quando? Quando io parlo del mondo della scuola, la scuola purtroppo spesso si trova sempre più sola, perché le altre istituzioni, e non è una critica, è una fotografia delle fragilità che purtroppo ci sono, in primis la famiglia, a volte le famiglie fragili non riescono a dare questo supporto, per cui noi che lavoriamo, che abbiamo la fortuna di lavorare con i ragazzi, dico noi grandicelli, abbiamo questo compito importante di trasmettere questa modalità ai ragazzi, di aiutarli attraverso il nostro esempio, a scoprire l'altro, a fermarsi, ad ascoltarsi, ad incontrarsi, C'era un altro intervento in programma, se ti fai passare il microfono, per cortesia lo potete passare, grazie, gentilmente. E comunque volevo un attimo rilacciarmi al discorso delle discriminazioni, che comunque a parere mio non sono solo comunque contro gli stranieri, ma sono anche appunto contro i diversamente apili, e comunque io lo noto ancora a distanza di anni contro i meridionali. Insomma, è una delettante, no? Io sinceramente lo noto ancora, anche se comunque appunto non si parla di extracomunitari, ma comunque che magari appunto per molte persone ci può essere ancora il razzismo, ma si parla comunque di persone che sono comunque in Italia. E io questa cosa la noto e sinceramente anche mi dispiace, a prescindere che comunque anche l'extracomunitario mi dispiace tutto quanto, come penso a tante altre persone, però a distanza di tempo, vedere che questa discriminazione non è ancora passata, fa rimanere un po' male anche. Altri interventi ragazzi? C'è qualcun altro? Qua, microfono, alzati in piedi gentilmente anche tu. Eh no, perché non ti rinquadrano, sennò buttazioni ci sgrida. Grazie. E ci dici il tuo nome per cortesia. Io sono Angie. Ciao. Io vorrei fare, cioè vorrei dire una cosa pro agli stranieri. Io sono albanese. Secondo me, una cosa non giusta che avviene alcune volte, cioè molte volte, a parer mio, poi può essere anche non così, è che molti stranieri, soprattutto bimbi, cioè io ho vent'anni comunque, quindi mi ritengo, cioè ho una mia personalità e tutto, quindi mi sento anche accettata qua. Sei nata in Italia o in Albania? No, no, in Albania, in Albania. E secondo me non è giusto magari, se si può dire nel programma, non lo so. Una parolaccia no. No, no, non è una parolaccia. Magari io sento tantissimi ragazzi, anche a scuola, dire torno al tuo paese o comunque cosa ci fai qua in Italia, secondo me non è giusto, perché uno va bene, ci sono stranieri che vengono qua, non fanno niente magari, e pesano, aggravano sulla popolazione. Altri però che vengono qua, fanno un sacco di sforzi, come magari la mia famiglia, che ha fatto un sacco di sforzi venendo qua in Italia. E secondo me ci dovrebbe essere più unità in questo senso. Nel senso, se venissero accettati meglio gli stranieri, si integrerebbero meglio. Come vedi, come diceva prima la tua compagna di scuola, credo siete nella stessa scuola, comunque, come diceva lei, ancora c'è la discriminazione nei confronti dei meridionali, diciamo che sono cose che purtroppo si reiterano. Addirittura i meridionali che sono in Italia. Questo per farti capire, perché quando eravamo negli anni 80, quando ero bambina io, questa era la discriminazione. dopo ci sono stati gli stranieri, poi c'è l'omosessualità o l'orientamento religioso, piuttosto che banalmente, la fede calcistica, il genere. Qualsiasi cosa è buona per vedere nell'altro qualcosa che ti mette in difficoltà. Partiamo da questo spunto, io direi, per l'ultima parte della trasmissione, ma andiamo alla pubblicità e ci rivediamo subito dopo qui, sempre in diretta. Eccoci nuovamente qui in studio. Allora, si parlava di giovani e diversità, ci sono tanti interventi, cominciamo, ripartiamo da Alan. Tutti interventi veloci, rapidi, hai tu il microfono, mi pare, alzati sempre in piedi, sempre tenere il microfono come un gelato. Allora, volevo dire una cosa rispondendo alle due ragazze, no? Allora, è vero che non si dovrebbe mai insultare nessuno rispetto a da dove è nato, dove è cresciuto e tutto quanto, no? ma secondo me, tipo, chi dice torna nel tuo paese, no? Magari io sono un suo copano in classe e un giorno mi arrabbia con lei perché non mi suggerisce durante la verifica, no? Io dico torna nel tuo paese, è un insulto che magari ho imparato da uno più grande, però in quel momento non è torna al tuo paese perché io ce l'ho contro di lei perché è albanese veramente, ma... Cioè... Cioè, potrevi fare qualsiasi altro insulto, dici tu, uno vale l'altro. Però è il... È proprio una cosa che ci impuntiamo noi come società a far sì che ci escono a me, segue a me, poi non so. Ok, passa il microfono al ragazzo dietro, grazie, anche tu alzati in piedi anche se stai alto. Volevo dire una cosa. Come ti chiami? Enrico. Per esempio, io faccio l'esempio lei, l'ho vista e non sapevo che fosse albanese, quindi c'era uguale a tutti noi e quindi secondo me il razzismo è una cosa inutile, cioè non ha senso. Basta, volevo dire solo. Anche perché probabilmente chi glielo dice... Anche perché chi lo dice lo sa che lei è albanese perché altrimenti appunto sarebbe una ragazza come l'altra. Patrick, tu che vuoi parlare? Dov'è il microfono? Ragazzi, fate passare il microfono per cortesia avanti. Chi altri voleva parlare? Vai tu intanto che lui... Facciamo parlare lui mentre tu ti prepari. Buonasera, anche io volevo porre una domanda agli ospiti questa sera se possiamo associare la paura del diverso alla paura dell'immigrato. Ok, altre domande? Patrick? No, non è una domanda, ma... Ma è una testimonianza diretta. Ma io comunque penso che nel 2019 il razzismo, come ha detto la mia vicina, contro i meridionali secondo me è una vergogna. Io l'ho notato anche nello sport e soprattutto nel calcio che praticamente tutte, tutte le squadre, tutte le tifoserie se la prendono con Napoli. Io sono un tifoso... O Trieste, ti posso dire anche nel... Cioè, se ne sentono sì di corretti sempre molto coloriti, immagino. Quindi anche nel calcio dei giovani, insomma, a livello non... Esatto. Diciamo, di serie A o quant'altro. Secondo me è una vergogna, basta. Altri interventi? Grazie. Allora posso... La parola... C'era quel ragazzo. Ah, ecco sì. Buonasera. Ti trovavo qui. Io sono Alberto e sono rappresentante della consulta Alma Lignani. Diciamo che io ho a cuore il tema della disabilità e ritengo che una persona disabile abbia una necessità primaria, essere indipendente. Appunto per questo quest'estate assieme ai ricercatori di intelligenza artificiale dell'Università di Udine abbiamo sviluppato un progetto molto interessante, ovvero un robot che permette di aiutare le persone con una disabilità, in particolare i non vedenti, a navigare all'interno di edifici molto grandi come per esempio la Sederizzi dell'Università di Udine. Diciamo che questo progetto è stato molto molto costruttivo dal mio punto di vista perché appunto vede interfacciare queste nuove tecnologie e possibilità che ci dà tutto l'ecosistema dell'intelligenza artificiale per risolvere un problema comune ovvero quello dell'inclusione sociale diciamo di persone disabili. Che in qualche modo diciamo anche questo dici può aiutare a superare queste divisioni che sono extra poi la propria disabilità. Vedo nel futuro con anche gli sviluppi tecnologici una riduzione di queste diversità che ci sono tra gli individui perché oggi sarà un robo così magari tra vent'anni sarà un occhio bionico che permetterà a chi non ha la possibilità di vedere appunto e invece contro questo questo è molto interessante per il razzismo l'intelligenza artificiale ancora poco c'è il pregiudizio diceva la dottoressa Degano che era uno dei punti cardine per chiudere un po' il cerchio della nostra puntata infatti pensavo al pregiudizio sentendo un po' tutti i loro interventi e in particolare volevo anche rispondere alla tua domanda sì c'è una forte connessione tra la paura del diverso e la paura dell'immigrato perché l'immigrato è diverso viene da qualcosa di altro da un territorio diverso con altre abitudini con altre modalità porta altre risorse un altro linguaggio altro elemento il linguaggio che è diverso e questo richiede fatica per l'essere umano se noi pensiamo a Darwin e al suo senso anche di individuare descrivere la selezione della specie la continuità della specie lui ragionava in questi termini la specie continua nella misura in cui è in grado anche di selezionare e categorizzare il nostro cervello funziona così quindi noi tendenzialmente semplifichiamo semplifichiamo e categorizziamo se però questo è all'estremo rischiamo veramente di perderci di perdere quelli che sono i dettagli delle opportunità e delle occasioni che l'altro ci porta il tema del pregiudizio secondo me che è assolutamente attuale e sono d'accordo con il ragazzo con Enrico con Enrico anche con Enrico il razzismo e il pregiudizio ormai sono vecchi sono vecchi perché la società di oggi ha bisogno di evolvere e noi avremo evoluzione solamente attraverso l'integrazione questo è il tema per cui lo dicevo il pregiudizio che è un giudizio pre-anticipato diventa una barriera è una barriera rispetto a che cosa? all'evoluzione l'altro è un'occasione per crescere noi dobbiamo concentrarci su quello che l'altro porta come opportunità e quindi le due cose sono sicuramente simili la paura del diverso sì cioè è correlata all'immigrato perché chi viene da fuori sembra che porti qualcosa di diverso e di altro si dà poca attenzione a quanto l'altro invece porta come integrazione come elemento in più come opportunità ricchezza però come diceva la ragazza no come diceva Alan alla fine io dico torna al tuo paese è un'offesa poteva dire qualsiasi altro utilizzare qualsiasi altro insulto però si va a colpire mentre l'altro dice io se lei non lo diceva che era albanese non lo sapevo per me era una come un'altra quindi c'è anche la malizia a volte o viviamo in una società in cui un vaffa o un vaffa torna al tuo paese è un intercalare o Napoli quello che è sono intercalari che passano così che si possono usare con leggerezza forse no no che si possono usare con leggerezza assolutamente no perché diventano offensivi no poi come dicevo prima nel momento in cui noi trattiamo male l'altro in verità trattiamo male anche noi stessi o legittimiamo che gli altri ci trattino male questo è l'aspetto più grave la verità è che chi tratta male o chi usa queste espressioni così estreme mi viene da dire non ne sa usare altre in quel momento nel senso sente l'impotenza sente invece la presenza dell'altro come una minaccia quasi o comunque un antagonista diciamo l'antagonista sente l'altro più forte anziché occuparsi dello sviluppare la propria forza e del sostenere no se stesso e quelle che sono le proprie caratteristiche e riconoscere quelle dell'altro anche va a demolire il pregiudizio che cos'è l'offesa che cos'è se non la demolizione dell'altro anziché valorizzare quello che l'altro può fare anziché concentrarsi su come posso essere io più forte ok Dharma sì l'ultima domanda è dopo ah ok no volevo dire un'altra cosa nel senso che le persone che emigrano comunque cioè nel senso che non sono magari nella loro terra d'origine hanno delle motivazioni valide per farlo perché non penso che qualcuno si sposti dalla propria terra d'origine dai loro cari perché ne ha voglia quindi cioè comunque ci sono dietro motivazioni valide o comunque problemi che portano le persone a doversi spostare l'hanno fatto magari negli anni 80 gli italiani e anche prima anche prima e adesso in Friuli sapete che abbiamo una storia di immigrazione molto molto radicata e quindi dovremmo dovremmo saperne qualcosa poi si vede che poi penso che comunque siamo cittadini del mondo quindi ognuno è libero di andare dove vuole di essere accolto nel migliore dei modi esatto quello che dice Dharma però è verissimo grazie di questa cosa perché perché spesso la paura del diverso dell'immigrato si amplifica attraverso un pregiudizio di concetti un po' imprecisi che a volte sono slogan che noi sentiamo in famiglia nei social eccetera pregiudizio che può essere sgretolato attraverso una conoscenza una conoscenza del percorso di vita di queste persone ma questo vale per l'immigrato ma vale anche per chi ha origini meridionali e io sottolineo sempre questa importanza so che ritorno sempre lì l'importanza del condividere le esperienze di conoscersi perché è attraverso anche il racconto reciproco delle esperienze che diminuiscono i pregiudizi e le paure dicevo scusi che erai in coda diciamo abbiamo due minuti per cui dobbiamo essere veloci molto brevemente solo una cosa rispetto all'ultimo intervento di Alan a cui riconosco sicuramente una sensibilità anche per quello che ha detto prima però io mi permetto di dire Alan che non sono molto d'accordo che un insulto vale l'altro perché è vero che è un momento di rabbia e che ce l'ho con te perché non mi hai passato il compito e quindi voglio solo farti capire che sono arrabbiato però non è vero se abbiamo capito che il razzismo è una cosa vecchia che dovremmo lasciare avremmo dovuto già da tempo lasciarci alle spalle e via dicendo abbiamo anche l'intelligenza e voi tu poi avete la sensibilità di capire che dire una cosa per ferire l'altro o dirne un'altra fa tanta differenza se tu hai una fragilità ok come per esempio la consapevolezza di provenire da un altro paese e di essere visto un po' così come uno che ruba il lavoro che delinque eccetera eccetera se viene insultato su questo ha su di te un effetto se ti manda a quel paese genericamente o ti dice guarda ma sei veramente uno perché è diverso è lo stesso discorso che giustamente fai tu rispetto allo stadio anche per me io vado allo stadio e per me i cori in questo caso contro i napoletani sono qualcosa di inascoltabile inascoltabile perché vanno a su pregiudizi su razzismo eccetera eccetera però vanno a insistere su degli stereotipi e delle stupidaggini fondamentalmente che vogliono solo esprimere aggressività punto i nostri ragazzi che sono giovani ci hanno detto che è vecchio e quindi speriamo in voi nelle nuove generazioni perché effettivamente è qualcosa di vecchio sgradevole che non ha senso e il nostro tempo è finito ragazzi cari ospiti quindi io vi ringrazio ringrazio il professor De Carli Nicola Bisan Benedice Pegoraro e Anna Degano per essere stati con noi e i vostri interventi grazie mille naturalmente grazie mille anche a voi ragazzi bravissimi come sempre grazie alla regia noi ci vediamo venerdì prossimo sempre qui alle 17.30 e domani in replica sabato come sempre ciao a tutti grazie bravo vi ciao a tutti wir